Quanto ci piacciono le predizioni? Quanto ci piace quando qualcuno ci anticipa qualcosa rispetto al futuro? Benvenute e benvenuti all'interno di questo contenuto. Oggi parliamo proprio di predizioni, più che altro potremmo dire di previsioni, in questo caso molto belle, perché le previsioni potrebbero essere anche brutte, ma in questo caso sono molto belle, fatte da Bitwise. Bitwise è una società americana che si occupa di asset management crypto e proprio oggi ha rilasciato le proprie 10 previsioni, predizioni, per quanto riguarda il 2024. Ecco quindi il documento, chiaramente lo trovate linkato qui sotto in descrizione per poterlo scaricare in autonomia e poterlo consultare quando volete. La prima previsione di Bitwise riguarda il prezzo di Bitcoin. Secondo Bitwise raggiungerà un nuovo all time high di almeno 80.000 dollari. In particolare Bitwise dice che quest'anno Bitcoin ha sovraperformato tutte le altre asset class. Standard & Poor's ha dato un ritorno, è cresciuto del 21%, l'oro del 12% e Bitcoin del 128%, quindi sostanzialmente un ordine di grandezza in più rispetto a tutte le altre. Si aspettano che possa continuare allo stesso modo anche durante il 2024. In particolare è trainato da due aspetti. Il primo è quello dell'ETF, che secondo Bloomberg, ora non viene riportato qui ma nel documento poi viene riportato, secondo Bloomberg ha un 90% di probabilità di essere approvato entro gennaio. L'altro invece gancio trainante è quello che riguarda l'Halving. In particolare ad aprile giù di lì ci sarà l'Halving e quindi ci sarà un equivalente di 6.2 billion di riduzione di nuovi Bitcoin in controvalore, chiaramente 6,2 billion di dollari in controvalore di Bitcoin che non verranno immessi nel mercato nel 2024. E quindi questo doppio trainano da una parte la supply che ha un'inflazione minore, avrà un'inflazione minore. Dall'altra il fatto che molti asset management vorranno avere accesso a Bitcoin, vorranno iniziare a detenere Bitcoin, questo farà schizzare il prezzo di Bitcoin. Tra l'altro questo però è un mio commento, mi sembra anche un prezzo abbastanza conservativo, cioè mi sembra tipo quei prezzi che vengono dati per dire poi vedete noi avevamo detto 80.000 ma in realtà è andato a 300.000, ora non voglio dire che andrà a 300.000 però tutto sommato rispetto ad altre previsioni mi sembra un prezzo abbastanza conservativo. La seconda previsione riguarda l'approvazione dell'ETF spot su Bitcoin. Ora un attimo fa l'abbiamo citato come gancio di traino per far arrivare il prezzo di Bitcoin agli 80.000 dollari. In questo caso è proprio invece la predizione che l'ETF sia realmente approvato. Bloomberg, lo ripetiamo, dice che c'è un 90% di possibilità che sia approvato entro il 2024 nella prima parte del 2024, addirittura nelle prime due settimane del 2024 perché poi scade la domanda verso la SEC e quindi è come se la SEC avesse rifiutato l'ETF spot. Quindi abbiamo le prime due settimane per farla approvare e Bitwise dice che secondo i nostri studi l'ETF spot di Bitcoin dovrebbe riuscire a catturare entro 5 anni, nei prossimi 5 anni, una quota dell'1% di tutto il mercato che è di tutto il mercato dell'ETF americano che è di 7.2 trillion. Quindi in questo caso l'1% sarebbe 72 billion, quindi sostanzialmente una quindicina di billion all'anno. E quindi questo se andiamo a fare una previsione, se andiamo a riprendere il dato precedente vuol dire che loro si aspettano che una quindicina di billion possano arrivare circa nel prossimo anno facendo finta che appunto sia un'entrata lineare nel corso del tempo quindicibillion possano fare alzare il prezzo da dove siamo ora fin verso gli 80.000 dollari. Anche in questo caso sono stime direi molto conservative perché secondo altre stime che si possono leggere in giro di altri istituti si possono leggere numeri abbastanza più importanti rispetto a 72 billion. Però credo che Bitwise in generale abbia fatto degli studi piuttosto buoni e che si voglia comunque tenere su un approccio conservativo per dire male che vada va così, se va bene molto meglio per tutti. In generale gli americani, diciamo gli asset management americani chi fa le stime a livello americano soprattutto verso la fine dell'anno tende a sottostimare le performance così che possa dire successivamente vedete che vanno sempre meglio rispetto a quello che vi dico. Anche in questo caso mi sembra che l'approccio sia questo ma è una mia lettura quindi andiamo avanti con le prossime predizioni. La terza predizione riguarda Coinbase e le expectation, le aspettative che ha il mercato sull'azienda in particolare il mercato Wall Street ha un'idea che Coinbase possa crescere del 9% anno su anno infatti vedete qua sotto che c'è tutte, si parla di revenue, annual revenue, ok? Nel 2018 520 milioni perché stiamo parlando di milioni poi 534 milioni, 1277 milioni e nel frattempo come vedete più 3%, più 139%, più 514, meno 59, meno 11%, quindi negli ultimi due anni le revenue sono andate ampiamente in negativo, chiaramente eravamo in bear market Wall Street per il 2024 si aspetta un più 9%, Bitwise la spara altissimo in controtendenza rispetto a quel che dicevo un attimo fa, più 100%, quindi 10 volte tanto rispetto a quello che si aspetta e le motivazioni per cui Bitwise si aspetta un dato così differente rispetto al mercato è innanzitutto il bull market che è come dire è atteso poi quando una cosa è troppo attesa bisogna stare attenti che alle volte non arriva però alle volte invece le cose sono più scontate del previsto quindi il mercato per l'appunto ricita il fatto che quest'anno è cresciuto Bitcoin del 128% la seconda è la parte di innovazione, infatti Coinbase ha lanciato il proprio layer 2 su Ethereum che si chiama Base e che effettivamente sta iniziando a macinare parecchio e se avrà appunto dietro tutta la struttura di Coinbase potremmo aspettarci tantissime applicazioni che vanno anche su Base che rilasciano la propria versione anche su Base e quindi un sacco di commissioni per la rete e poi in maniera indiretta anche per Coinbase stesso e la terza è il fatto che effettivamente Coinbase è il primary custodian for per tutti quanti, quasi tutti gli ETF quindi se effettivamente fossero approvati gli ETF come ci si aspetta vedete che ogni punto in qualche modo richiama l'altro perché sono tutte una serie di previsioni a catena effettivamente Coinbase sarebbe il custodian per la maggior parte degli ETF e quindi potete capire che una parte delle commissioni di tutte le miliardate di Bitcoin di tutte le miliardate di ETF, di asset ETF che verrebbero venuti con sottostante spot Bitcoin arriverebbero esattamente poi, tutti questi ETF avrebbero delle fiche arriverebbero alla fine a Coinbase quindi effettivamente ci sono tre punti piuttosto importanti che forse il mercato, forse Wall Street non ha ancora preso in considerazione e Bitwise dice ok non ci hai pensato? Ci penso io, non ti preoccupare e quindi c'è questa differenza di 10 volte tanto anche di più di 10 volte tanto tra il 9% e il 100% magari fosse anche una via di mezzo diciamo che sarà sicuramente un numero molto importante la quarta previsione riguarda niente po' di meno che le stablecoin e Visa in particolare Bitwise dice, è una previsione molto forte ve lo assicuro che nel prossimo anno il volume sulle stablecoin sarà maggiore del volume fatto da Visa questo è il grafico anno su anno dal 2017 al 2023 dei volumi quindi come vedete praticamente 0 nel 2017 le stablecoin è cresciuto poco, è cresciuto poco, è cresciuto poco nello scorso bull market nel 2021 volumi stratosferici nel 2022 nonostante i volumi non siano stati stratosferici come il 2021 perché nel 2022 abbiamo iniziato appunto la fase di bear market comunque sia abbiamo avuto dei volumi a livello di ordini di grandezza paragonabili perché comunque siamo su circa 8 trillion per quanto riguarda Visa e circa poco meno di 12 trillion per quanto riguarda scusate le stablecoin 10 trillion, 8 trillion e poco meno di 12 trillion per quanto riguarda Visa dal Q1 al Q3 del 2023 questa è la situazione quindi questa qua in fondo l'ultima scaletta che vedete e nel caso di una nuova bull run potete immaginare che i volumi potrebbero venire fuori e quindi Bitwise dice, secondo noi nel 2024 in previsione della bull run o addirittura in bull run avremo dei volumi di stablecoin molto molto maggiori, ora molto maggiori l'ho messo io maggiori rispetto a quelli di Visa tutto questo a posteriore lo valuteremo anche sulla base del fatto che forse Visa inizierà a utilizzare in parte le stablecoin magari nel 2024 e quindi il grafico sarà più pulito ma nel 2025-2026 mi aspetto assolutamente delle integrazioni e quindi chiaramente andranno scissi poi i volumi arrivati dal lato di stablecoin dai volumi arrivati al lato mercato normale per fare di nuovo confronti di questo tipo comunque sia i dati sono pazzeschi quinta predizione JP Morgan tokenizzerà un fondo e la lancerà on-chain sarà normalissimo questa cosa, ne sono sicuro JP Morgan o chi per loro a un certo punto tokenizzerà un fondo, un fondo di investimento e poi farà in modo di distribuire dei token che rappresentano poi quel fondo tramite qualsiasi blockchain ora JP Morgan ha la propria blockchain, non so se vorranno utilizzare solo quella se saranno aperte a utilizzare delle altre se sarà quella su cui vengono mintati inizialmente e poi sarà possibile passarli esternamente non so, tutte le varie integrazioni verranno nel corso del tempo ma sicuramente il valore dei real world assets si incrementerà tantissimo nel corso del tempo non appena gruppi grandi come JP Morgan affineranno un po' le proprie tecniche sicuramente il valore dei real world assets andrà su a livelli stratosferici la sesta prediction riguarda le revenue di Ethereum in particolare riguarda il raddoppio delle revenue di Ethereum per arrivare ad almeno 5 miliardi qui vedete le revenue nel corso del tempo 2019-2020 basse sotto il miliardo 2021 scoppiate con la Burran a 10 miliardi quasi poi 2022-2023 l'estimate perché ancora non è finito 2 billion per il 2024 sempre l'estimate quindi la stima è di arrivare ad almeno 5 billion quindi raddoppiare almeno il 2023 ma addirittura a seconda che si inneschi la Burran o che non si inneschi che si inneschi prima della metà del 2024 o nella seconda metà del 2024 chiaramente ci sono risultati differenti e in questo caso sul grafico vengono valutati circa 6 billion, 6 billion e mezzo, 7 billion di revenue quindi da 5 a 7 billion di revenue all'incirca chiaramente se dovesse scattare una Burran parecchio pesante mi immagino anche volumi molto più grandi del 2021 e quindi anche revenue più importante del 2021 però c'è un punto che vedremo fra poco che bisogna prendere in considerazione per quanto riguarda Ethereum una delle critiche che viene mossa più spesso verso le blockchain a livello proprio economico da investitori è il fatto che non abbiano un cash flow ora questa cosa è falsa, è falsa questa critica perché Bitcoin va bene, Bitcoin lo compri basso, lo rivendi alto è l'unico modo con cui puoi guadagnarci su Bitcoin ma su Ethereum puoi fare anche tanto altro nel senso che Ethereum è un super computer globale è una rete globale e tu paghi la rete per fare delle operazioni bene, quelle fee che paghi alla rete poi vengono ridistribuite fra i vari nodi validatori quindi puoi fare due cose o ti metti in piedi un nodo validatore oppure vai su un qualsiasi Lido Finance di turno e metti in staking i tuoi Ethereum quindi li dai diciamo al validatore che poi ci pensa lui a creare li dai al Lido che poi pensa lui a creare un validatore e in quel modo ti prendi lo stesso le revenue quindi non è vero che Bitcoin, che Ethereum è una rete che non ha un cash flow lo ha e come e quindi questo potrebbe essere anche molto interessante perché nel momento in cui appunto le commissioni, le revenue aumentano potrebbero esserci dietro nuovi investitori che per guadagnare una parte, una percentuale di quei billion investono sulla rete quindi in qualche modo la decentralizzano ancora di più e quindi è un cane che si morde la coda, è un lupo positivo perché le persone, gli investitori vogliono guadagnare per farlo creano nuovi nodi validatori e nel farlo alimentano la decentralizzazione della rete Predizione numero 7 questa devo dire che non me l'aspettavo Taylor Swift lancerà le collizioni di NFTs per connettersi con i fan in una nuova modalità vi ricordate infatti all'inizio usavamo i vinili poi le cassette, i CD, gli mp3, gli streaming e prossimamente Bitwise si aspetta gli NFT per vari motivi, anche perché un NFT all'interno esistono già varie decentralized applications che si occupano proprio di gestire musica tramite NFT perché può gestire anche internamente, intrinsecamente anche i diritti musicali di quel brano per esempio Justin Bieber ha lanciato un brano in NFTs anzi la proprietà di un brano tramite NFTs che permettono di avere una revenue sul brano stesso quindi di tutte le revenue che riceve Justin Bieber l'1% viene condiviso con 2.000 NFTs con gli account, i wallet, i 2.000 NFTs che sono stati distribuiti al lancio della musica bene, ora Justin Bieber ok però Taylor Swift 26 billion di streams su Spotify che credo sia la, sì, il most streamed, no il most streamed artist Taylor Swift ma Spotify credo che sia l'azienda la piattaforma di streaming più grande in questo mondo quindi proprio un nuovo modo di concepire la musica un nuovo modo di rapportarsi con i fans perché con gli NFT a quel punto puoi fare tante cose in più non solo distribuire le royalties della musica ma anche andare a creare un contatto più stretto anche a gestire biglietti a gestire musica relativa a biglietti uscite di musica solo per alcuni fan non per altri insomma puoi fare una vagonata di cose tutte on-chain, tutte automatizzate prediction numero 8 questa forse è la più particolare di tutte quanti gli assistenti di intelligenza artificiale diciamo gli agenti di intelligenza artificiale inizieranno ad utilizzare le crypto per essere pagati o addirittura per pagare direttamente cosa vuol dire questo? vuol dire che noi nel 2023 abbiamo assistito a un'evoluzione pazzesca di tutta l'intelligenza artificiale praticamente da zero a dove la conosciamo oggi che sembra già avanti anni luce io non so, pensando un anno fa non avrei mai creduto che potessimo arrivare a questo punto cioè veramente mi sconvolgo da solo dall'altra parte invece il mondo è questo si sta evolvendo in questa direzione e gli agenti di intelligenza artificiale diventeranno sempre più presenti nella nostra vita quotidiana che ne so voglio comprare un biglietto per un concerto di Taylor Swift di quella del piano precedente della predizione precedente come faccio? beh, te lo dico lo dico all'assistente e lui mi va a fare tutto quanto non importa che io vada su un sito che cerchi le cose no, automaticamente io dico all'assistente lui va a cercare online dove si possono comprare e me li fa avere chiaramente però devo anche pagarli, no? per cui il sistema di pagamento in criptovalute sembrerebbe quello e mi sembra abbastanza ovvio quello più utile per integrarsi con assistenti di intelligenza artificiale anche perché tranquillamente potrebbero andare a vedere onchain a vedere se il pagamento è stato fatto e quindi banalmente potrebbero poi dire all'altro assistente di intelligenza artificiale dall'altra parte insomma al server che sta dall'altra parte guarda ti ho fatto il pagamento l'hash di transazione è questo puoi verificarlo in questo modo bom biglietto convalidato eccoti qua il tuo NFT il tuo biglietto adesso puoi andare al concerto e l'hai fatto tutto in pochissimi passaggi dall'altra parte mi aspetto anche che degli agenti di intelligenza artificiale si facciano pagare per esempio pensate un po' per comprarmi il biglietto per semplificare tutta l'operazione c'è un'assistenza di intelligenza artificiale che magari si fa pagare lo 0,1% del costo del biglietto io gli dico vai tienitelo perché mi risparmi un sacco di tempo di andare sul sito registrarmi fare cose per cui mi va benissimo fare così a quel punto una parte del mio pagamento una buona parte andrà per il biglietto un'altra parte andrà all'assistente di intelligenza artificiale anche questa mi sembra una cosa fighissima funzionerà sicuramente e sicuramente accetterà le criptovalute perché saranno molto più facili molto più controllabili proprio anche a livello di pagamenti e molto più trasparenti predizione numero 9 più di 100 milioni di dollari saranno stake saranno investiti saranno portati nel market nel prediction markets nel market nel mercato delle predizioni delle scommesse ma non inteso come scommesse illegali anche potenzialmente sì cioè nel senso nell'ultimo anno io ho visto anche dei siti di scommesse illegali in quanto per fare certi tipi di scommesse bisogna essere certificati bisogna avere delle certificazioni ma insomma questo è un'altra scala di problemi però proprio anche per esempio pensate a tutti gli sport a tutto quello che riguarda le scommesse sugli sport a quello che riguarda anche scommesse di carattere politico scommesse sul prezzo di un asset tutto questo sarà probabilmente portato non tutto però una parte sarà portata su applicazioni decentralizzate che in qualche modo alimenterà ora 100 milioni attenzione non è che siano tanti sembrano tanti ma stiamo parlando comunque se pensate ai numeri che abbiamo detto prima stiamo parlando di un valore piuttosto basso però sicuramente se guardiamo anche rispetto al passato vedete nel 2021 siamo arrivati a 50 milioni e la previsione attualmente nel 2023 siamo a circa 30 milioni quindi la previsione che si arrivi a 100 è comunque un triplicare anche più che triplicare rispetto ad ora e un raddoppiare rispetto all'altime di questo tipo di mercato che è stato appunto nel 2021 quindi comunque un sostanziale ingrandimento di questo tipo di mercato predizione numero 10 uno dei maggiori upgrade della blockchain di ethereum sarà che i costi di transazione andranno addirittura sotto gli 0,01 dollari che è una cosa pazzesca se pensate a oggi se pensate anche agli anni scorsi dove abbiamo pagato anche 5, 10, 20, 100 200, 300 dollari per ogni transazione tutto questo avverrà perché ethereum scalerà tantissimo con tutti i layer 2 che nel tempo si sono creati optimist arbitrum base polygon tantissimi altri che hanno smesso di essere competitor di ethereum in quanto layer 1 ma hanno deciso di diventare layer 2 e di permettere ethereum di scalare addirittura questo ha cambiato anche un po' i piani di ethereum che all'inizio voleva fare lo sharding e quindi pensare a dei layer 2 la semplifico però a dei layer 2 autocreati mentre il fatto che tante scienze siano diventate layer 2 autonomamente chiaramente è andata a cambiare un po' i piani di ethereum e in realtà è andata a semplificarli perché non l'hanno non l'hanno dovuto fare loro ma l'hanno fatto appunto optimist marmit room base e come vedete le commissioni nel corso del tempo si abbassano si abbassano si abbassano e per quanto riguarda appunto la previsione di bitwise addirittura loro dicono che ogni transazione su ethereum arriverà a costare meno di 0.01 dollari mi sembra una previsione un po' ottimistica per il 2024 però speriamo sia così non possiamo dire assolutamente che saremo tristi nel caso dall'altra parte se ripensate un attimo a quello che ci siamo detti prima nel punto nella prediction 5 ricordate che c'è la previsione del raddoppio dato appunto dalle revenue di ethereum in parte è vero perché in parte viene dallo staking che non c'entra direttamente con le revenue dall'altra parte chiaramente se le revenue si abbassano molto quindi se una transazione invece di costare 3 dollari 5-10 dollari costa 0.01 dollari capite bene che stiamo parlando di vari ordini di grandezza di due ordini di grandezza inferiori da 5 a 50 5 dollari 50 centesimi 5 centesimi gli ordini di grandezza sono due in meno e sono veramente tanti e quindi è anche per questo secondo me che anche in un eventuale diciamo se mettiamo insieme le due predizioni anche in un eventuale bull market forse le commissioni di ethereum non sarebbero così importanti come magari lo sono stati nel 2021 quindi magari crescerebbero nuovamente verso i 6-7-10 billion ma con un numero di transazioni appunto 100 volte superiore perché stiamo parlando di ordini di grandezza di commissioni due volte inferiori alla fine di tutto quanto abbiamo anche una bonus prediction in particolare ci dice che 1 su 4 financial advisor consulenti di investimento andranno ad allocare nel 2024 una parte del patrimonio cripto anche piccolo una parte del patrimonio dei propri clienti in cripto fosse anche piccolo fosse l'1% lo 0,5% 1 su 4 andrà a allocare il patrimonio dei clienti in criptovalute e questo se ci pensate è una roba pazzesca pensando che fino a pochi anni fa nessuno nella finanza classica sponsorizzava le criptovalute nessuno avrebbe voluto vederle questo mi sembra un segno veramente molto 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 bullish da parte di Bitwise chiaramente è un'azienda del settore sicuramente è molto informata dall'altra parte forse vuole mostrare anche qualcosina in più di quello che è però ricordatevi anche di quello che ho detto all'inizio perché all'inizio sono stato proprio io a dire che le loro previsioni in un qualche modo mi sembra addirittura sottostimare quello che potrebbe essere il potenziale di una nuova bull run amici vi ringrazio per essere arrivati fino a qua fatemi sapere se queste prediction vi sembrano vere vi sembrano utili vi sembrano interessanti per il futuro fatemi sapere se voi avete delle altre prediction interessanti mi farebbe molto piacere mettete un bel like iscrivetevi qui sotto al canale vi ringrazio ancora e noi ci vediamo in un prossimo contenuto ciao